La luce di Cristo si diffonde dalla periferia di Israele, dalla Galilea periferia geografica e religiosamente impura, perché piena di pagani. Questo deve suscitare in noi il desiderio di portare la parola, l'amore e la tenerezza di Gesù in ogni contesto, anche il più impervio e resistente. Lo ha detto Papa Francesco prima della preghiera dell'Angelus in piazza San Pietro, commentando la pagina del Vangelo di Matteo di questa domenica, che narra l'inizio della predicazione di Gesù a Cafarnao, nella cosmopolita Galilea delle Genti, punto d'incontro tra il Mediterraneo e la Mesopotamia. Lì Gesù annuncia il Regno dei Cieli, il compimento dell'alleanza con Dio, per la quale ognuno è chiamato a convertirsi. A differenza di Giovanni il Battista, Gesù sceglie di essere un profeta itinerante, che si muove incontro alla gente, sulle rive del lago, come accade con le coppie di fratelli pescatori, Simone e Andrea, Giacomo e Giovanni. Gesù li chiama nel pieno delle attività di ogni giorno, ha spiegato il Pontefice, e grazie alla loro risposta generosa, noi oggi abbiamo la gioia di proclamare e testimoniare la nostra fede. Sulle rive del lago, in una terra impensabile, è nata la prima comunità dei discipoli di Cristo. La consapevolezza di questi inizi suscita in noi il desiderio di portare la parola, l'amore e la tenerezza di Gesù in ogni contesto, anche il più impervio e resistente. Portare la parola a tutte le periferie. Tutti gli spazi del vivere umano sono terreno in cui gettare la semente del Vangelo, affinché porti frutti di salvezza.